Io sono Francesca Vecchioni, ho fondato e presiedo un'organizzazione no profit che si chiama Diversity e sono qua al festival per parlare di come i media e la comunicazione tratta i temi e racconta le storie delle persone LGBT, QI, etc. Diversity è un'organizzazione che monitora e lavora sulla comunicazione ma fa anche altro, fa anche altro, fa formazione, crea... In realtà io dico sempre, è una cosa magari semplice, però in realtà crea caramelle, ossia cerca di, partendo dalla ricerca accademica, da ciò che può essere importante e divulgare sulle tematiche dell'inclusione, arriva a creare dei progetti che semplifichino, che in fondo sono come caramelle da riuscire a far, per fare anche ingolosire le persone di alcune informazioni che sono importanti invece. Quindi una delle attività dei diversity è questa, la divulgazione della cultura dell'inclusione. I diversity media awards sono uno dei progetti di diversity, forse il più famoso in realtà, perché è quello con cui è più conosciuta diversity. E si ispirano, ma sono diversi, ai GLAAD Awards, che sono lo stesso premio che in America viene dato appunto alla rappresentazione dei media delle persone LGBT. Eppure sono qualcosa di altro, perché arrivano da un'altra cultura, da un'altra storia anche, che è quella italiana, dove in realtà avevamo bisogno di dare anche una base più solida. Avevamo bisogno di avere dalla nostra parte una ricerca accademica, di dare delle radici e di non prestare il fianco a facili critiche. Noi non abbiamo una giuria, ad esempio. Noi abbiamo, in questo momento sono nove docenti di una commissione scientifica, più due centri di ricerca, tra cui l'Osservatorio di Pavia, con cui analizziamo tutti i contenuti dell'informazione e dell'intrattenimento. Facciamo un'analisi sia quantitativa che qualitativa. Facciamo un lavoro sommerso, che in realtà coinvolge circa una sessantina di ricercatori, tutto l'anno. E questo non è detto, è quello che c'è sotto, è sotto l'iceberg. In realtà, poi, tutto questo deve diventare qualcosa di fruibile, di utile, di divulgabile, perché lo scopo poi è fare informazione. E soprattutto lo scopo vero dei Diversity Media Wars è sensibilizzare chi fa comunicazione, chi scrive un programma televisivo, chi produce un film, il direttore di un giornale di una testata che decide se o no affidare un articolo, che titolo mettere, che immagine mettere, eccetera. E questo avviene solo nel momento in cui tu sensibilizzi l'opinione pubblica su questo, perché in fondo crei l'immaginario collettivo. Quindi tutto quel lavoro grande di ricerca di cui vi ho parlato è praticamente trasparente, non serve neanche vederlo, e si esprime in realtà nelle nomination, cioè diventa poi qualcosa di pop. Questo qualcosa di pop sono le nomination di tutte le categorie che noi diamo tutti gli anni, anche grazie, unendo più soggetti, noi abbiamo la Commissione Europea, il Comune di Milano, l'Ambasciata del Canada che patrocinano l'evento, perché l'idea è quella di riuscire a fare rete davvero su questi temi. Le nomination partono e inizia il voting online. Il voting online vuol dire che chiunque può votare per scegliere chi rappresenta meglio le persone e i temi LGBT. E questo significa arrivare alla gente, perché anche il fan di una serie TV, che magari non si sarebbe posto minimamente questo problema, in realtà nel momento in cui va a votare, questo problema se lo pone. E quindi stai facendo cultura con una cosa leggera, che però può fare la differenza, fa riflettere. La serata finale poi è invece lo show, quindi la serata finale, quest'anno sarà il 23 maggio a Milano, è una charity gala dinner oltretutto, ossia grazie a quella sera noi finanziamo tutta la ricerca di tutto l'anno, quindi c'è quella parte, diciamo, da no profit, e poi c'è lo show, l'evento. E la cosa più bella che vi posso dire è che ci hanno presi per pazze dall'inizio, è che noi in realtà quell'evento lo facciamo davvero senza dire a nessuno dei nominati che vincerà. Quindi loro realmente lo sanno tutti la sera in cui vengono, e se non vengono e vincono, non riterranno il premio loro. Amen. Però vi racconterei di cose che sono successe, di gente che ci ha chiesto di metterli in nomination, o di toglierli a volte da alcune nomination, per ragioni particolari, dicendoci, ma insomma, prima di un premio così bisogna fare delle telefonate, no? E noi abbiamo risposto veramente, no, noi non facciamo delle telefonate, noi facciamo una ricerca, quindi non possiamo fare così. Ecco, questo è un po' il modo di scardinare anche un meccanismo, e però proporre qualcosa che possa arrivare alle persone. Questi sono i DMA. Ma ti dirò di più. Io credo invece in qualcosa di molto più alto dell'intersezione di età. Cioè, credo che l'intersezione di età in realtà debba essere valutata su un piano di diversity ancora superiore. Cioè, quando si parla di inclusione, il modo migliore per arrivare non è mai parlare solo di un'area dell'inclusione. Un tema è l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Ma non basta mai, perché non arrivi mai all'altro, se non utilizzi anche tutti gli altri temi. Se tu usi, per esempio, i temi dell'età, quindi le discriminazioni per età, le discriminazioni sul genere, naturalmente, puoi usare le discriminazioni socio-economiche. Uno degli elementi del bullismo principale è la discriminazione socio-economica. L'etnia, cioè, per me quella è la vera intersezionalità, in un certo senso. Pensiamo alla logica... Naturalmente sto parlando di un tema logico, non sto parlando di quello che può essere un dibattito molto... I dibattiti autoreferenziali a volte, dove non si riesce ad aprire davvero la pentola e tirar fuori le cose, sono delle grandi pippe, secondo me. Nel senso che è importante prenderli per riuscire a fare il passo successivo. E il passo successivo, secondo me, inizierà a rendersi conto che bisogna parlare di inclusione. Perché quando io parlo con mia nonna, o quando io parlo con, non so, un uomo che è esattamente nella categoria di quelli che non credono di essere una parte della diversity, ossia, uomo bianco, 40-50enne, magari anche benestante, no? Quella persona lì in realtà può essere raggiunta solo se riesci a fargli capire quante persone sono toccate dalla discriminazione e quanto invece è eterogeneo il mondo. Questa per me è la reale intersezionalità. Questa per me è la reale intersezionalità.